Buongiorno a tutti, chi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesi ma sono qui insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo dei Studi Politeisti vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo dei Studi Politeisti e Casalportale 53 Marostica Vicenza va beh, ok, sono tornato dopo 15 giorni di assenze cioè quindi ho saltato una trasmissione insomma dai, ho fatto ferie, va beh niente, la trasmissione di oggi, prima di cominciare la trasmissione vi ricordo che sabato 28 gennaio alle ore 20.30 qui in sala radio sala dibattiti di radio gamma 5 a Cadoneghe continueremo il ciclo dei dibattiti sul crociolo del stregone l'argomento specifico che daremo è il giudizio di necessità praticamente che cos'è il giudizio di necessità? è uno degli atteggiamenti che si deve assumere all'interno della società nella quale noi viviamo è un atteggiamento che va assunto, che viene interiorizzato da chi pratica stragoneria al punto tale che dopo diventa normale emettere questo tipo di giudizio che è un giudizio che viene emesso nei confronti di tutto quello che noi incontriamo nella nostra vita e che però non vincola la persona che emette quel giudizio cioè non siamo vincolati a dire la verità, a comportarci in un certo modo, a dover fare delle cose ma noi reputiamo che la verità è assolutamente soggettiva reputiamo che la visione delle cose che noi abbiamo è assolutamente soggettiva reputiamo che non esistono dei dogmi a cui obbedire pertanto i giudizi, le idee, le cose che noi esprimiamo non sono mai cose fisse, cose di dovere ma sono scelte che noi facciamo di volta in volta rispetto a quanto noi incontriamo il tuo audio, il tuo audio, il tuo audio è a posto no, non è a posto non è a posto e qualcuno ha anche messo le mani va bene, adesso è a posto provo a parlare? sì, spero che gli ascoltori mi sentano sì, adesso mi sento anche io in cuffia perfetto, ringraziamo sempre i nostri guardiani il nostro regista il nostro regista esterno grazie sempre no, c'era un bottoncino schiacciato va bene purtroppo succede che qualcuno schiaccia bottoncini che non dovrebbe schiacciare o schiacciare solo in emergenza va bene diciamo che il giudizio di necessità non ci costringe non ci costringe a dare quel giudizio a dire la verità o a comportarci in certo modo ma noi siamo anche consapevoli che l'infinito del mondo in cui noi viviamo è talmente vario che non possiamo assolutamente sapere se il giudizio che noi diamo è corretto o non è corretto diciamo che il giudizio che noi diamo è corretto per ciò che noi vogliamo ottenere pertanto non siamo obbligati a dire la verità ma siamo obbligati soltanto a manifestare noi stessi a manifestare i nostri intenti i nostri bisogni le nostre necessità e perseguirle e il giudizio di necessità è un giudizio da prendere con coscienza e con consapevolezza perché è un elemento fondamentale all'interno di un percorso di stragoneria fa parte dei cinque elementi comportamentali che è un apprendista stragone all'interno del sistema sociale in cui viviamo fra parentesi e per inciso dico questo ricordatevi che il giudizio di necessità in realtà viene usato anche dall'apparato statale viene usato da pubblicità viene usato da tutta una serie di enti che hanno lo scopo di afferrare l'attenzione delle persone per cui dobbiamo sapere che in realtà esistono dei giudizi quando dice ha sparato una stupidaggine in mani è una cosa assurda beh, quelli sono dei giudizi di necessità che hanno lo scopo di afferrare la nostra attenzione e di soggiogarci per cui essere coscienti di tutto questo delle relazioni che attraverso il giudizio avviene è fondamentale per un percorso di stragoneria per cui l'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 20.30 qui a Radio Gama 5 Sì, no, beh detto questo, beh, io ricordo appunto gli ascoltatori facciamo anche una piccola relazione su quello che è accaduto che venerdì scorso c'è stato appunto il primo Venetian Pagan Mut a Montegrotto che è andato veramente bene hanno partecipato parecchie persone e oltre 20 persone sono state presenti al dibattito per me siamo partiti con un dibattito abbastanza impegnativo perché si è cercato di dire che cosa è il paganesimo logicamente le persone presenti erano molto eterogenee questo è un aspetto positivo a molto giovani però è stato un dibattito interessante in cui tutti quanti hanno partecipato che dimostra appunto l'interesse che esiste appunto per quanto riguarda il corso del paganesimo in generale ricordo appunto che questo incontro è il secondo che si tiene nel Veneto un lato si è tenuto a Marghera è stata già fissata la data per il prossimo Venetian Pagan Mut che appunto ha diverso appunto dal Pagan Mut di Marghera sono definizioni che chi organizza se le sceglie liberamente e allora per quanto mi risulta il Venetian Pagan Mut di Montegrotto deve essere fissato per il 10 di febbraio per venerdì la sede dovrebbe essere la stessa se ci sono variazioni daremo comunicazioni sia su internet sia in trasmissione è in programma anche un Pagan Mut a Marghera organizzato dall'ambito Vicca e quando il nostro amico Gian Paolo ci darà la data faremo pubblicità anche a questo incontro come vedete la realtà diciamo territoriale ambientale nel Veneto nel Paganismo è molto forte il fatto che ad esempio a Marghera abbiano partecipato 15 persone e che non le stesse persone sono trovate altre 22 persone sono trovate a Montegrotto per parlare sempre di Paganismo indica che la presenza sul territorio l'interesse la curiosità tutto quello che il Paganismo attira sviluppa è interessante anche perché tra l'altro queste persone non è che vengono da tutta Italia vengono da pochi posti perché ad esempio per quanto riguarda quello di Venezia so che hanno partecipato gente di Treviso di Padova e di Verona e Vicenza per quanto riguarda quello di Montegrotto c'erano soltanto Trevisiani Padovani e Vicentini il che vuol dire che qualcuno ha detto ma forse è problematico che esistono due Pagan Mut nel Veneto alzate 50 km a mio avviso non sono di questa opinione perché significa che esistono persone che per motivi geografici ambientali locali preferiscono trovarsi in certi posti e il fatto che si riesca a organizzare due convegni così in una regione nel raggio di poche decine di chilometri significa che la presenza del Paganismo è molto interessante anche perché poi le tematiche pagane sono tematiche che se guardiamo la società la cultura l'ambiente cominciano a avere una valenza per quanto riguarda i diritti civili individuali per quanto riguarda la società e la cultura perciò è importante che chi ha una visione diversa da quella del cristiano visto che ormai in tutti gli ambiti politici culturali sociali c'è la tendenza a uniformarsi sul ricorso cristiano e cattolico c'è la volontà di creare una visione di verità imposta dall'alto è importante che le persone comincino a comprendere che organizzarsi anche a livello locale creare delle piccole zone di resistenza o delle zone libere dall'inquinamento monoteista rappresentano qualcosa di positivo e perciò spero che non ci siano solo il metodo di pagamut o che ce ne siano 3, 4, 10, 1000 proprio perché sarebbe importante che le persone che comprendono che il ricorso della religione della religiosità di una visione diversa da quella che è rispetto alla visione monoteistica è importante è fondamentale è necessario proprio perché oltre che per lottare per gli altri si lotta per se stessi per riconoscere che ogni persona o ogni individuo ogni comunità ha la libertà la facoltà e la possibilità di scegliersi il proprio riferimento il proprio dibattere assistiamo a dibattiti che hanno delle cose dell'incredibile il monoteismo vedete come si applica il cattolicesimo nella politica è un qualcosa che va sempre contro i diritti dei singoli delle comunità i pagani radicandosi nei luoghi nelle città nei paesi ricordano che ogni comunità è sovrana e si può adattare le proprie leggi e che non esiste una verità che viene imposta non esiste un dogma non esiste un decomandamento e uniformarsi ma la comunità genera produce sviluppa e fa uscire delle proprie regole e queste iniziative sono importanti ringraziamo tutti gli amici che hanno partecipato a quelli che verranno a continuare a quelli che si aggiungeranno a quelli che hanno sostenuto pur non essendo presenti perché molte persone alcune le avevo contattate anche io per telefono o altre persone ad esempio erano infiniate per lavoro non sono state presenti e che significa che esiste veramente un interesse fondamentale e necessario nel riscoprire e nell'affermare il paganesimo e questo è un segnale positivo io ringrazio gli amici di Monteclotto che hanno organizzato l'incontro ringrazio appunto l'amico Gian Paolo di Marghera per l'incontro che sta organizzando e speriamo che altre persone si associino a questo bene bene Francesco allora da cosa cominciamo partiamo oggi che abbiamo anche un disastro di rassegna stanza ma io sai io vorrei partire da un fatto molto significativo importante ci sono due manifestazioni quelle di Milano e quella di Roma e noi avevamo dato l'annuncio invitando gli ascoltatori che potevano di partecipare a queste manifestazioni almeno quella di Milano che è la più importante quello che mi è sembrato abbastanza significativo e qualificante è il silenzio dei politici sull'argomento io c'è un silenzio purtroppo ci sono delle dichiarazioni che spezzano le orecchie Francesco non semplicemente no ma io non ho fatto la segna stampa però a me ho notato che i giornali non ho fatto tempo a vederli dalle fotografie che ho visto dei filmati la piazza era piena e non c'era nessun politico o partito che se fosse schierato in maniera plateale pubblica che avesse incoraggiato questo anche per cui è significativo il fatto che la manifestazione di Milano fosse promosso da una relazione che dice usciamo dal silenzio proprio perché quello che i monotevisti vogliono fare è l'attacco alle libertà delle comunità dei popoli e anche dei singoli quello che i monotevisti vogliono fare è imporsi sui singoli provocando sofferenza e dolore soprattutto quello che vogliono attaccare è l'educazione dei giovani nelle scuole introducendo insegnamenti religiosi introducendo iniziativa di religioni impreparati non culturalmente in grado di affrontare le problematiche esistenziali di questi ragazzi ma proponendole le cose incredibili e quello che si vuole poi è anche cercare che in ogni ambito venga applicata una legge fondamentalista il fatto che i politici dicano che non aveva senso andare in piazza che alcuni politici che almeno hanno alle spalle nel loro passato un'amministrazione di massa di piazza molto forti sì sostengono che non era necessario poi tra l'altro una cosa che trovo quasi divertente è che qualcuno dica che la cerimonia è il folklore premesso che io non do una valutazione così negativa il folklore anzi io ricordo che il folklore significa saggezza popolare ma io penso che sia il folklore brutto pessimo schifoso chi obbliga i bambini a fare i presepi a tenere i crucifixi nelle scuole chi li porta nelle chiese e un vescovo come Maggiorini dice ai bambini babbo natale non esiste la befana è brutta esiste soltanto Gesù bambino e di conseguenza il folklore è giusto perché le persone dovrebbero avere una forma di manifestazione di atteggiamento dettato da qualcun altro se qualcuno vuole travestirsi certamente non fa danno se fai una manifestazione fa danno ancora meno certo che ai monotesti preferiscono i sacerdoti che hanno l'immagine positiva che hanno un bel vestitino e poi sono pedofri in tutte e quante strutture cattoliche e voglio ricordare se ti interessa ne hanno beccato un altro ieri in Spagna no ma a parte questo una cosa che non ho riportato che è stato un vescovo americano che ha ammesso di essere stato abusato all'interno di un all'interno appunto di un seminario allora come vedete anche la gerarchia ammette questo allora penso che sia più innocuo se qualcuno va in piazza e si trasveste si trasveste proprio perché vuole dare anche l'immagine visiva della diversità di comportamento perché ricordate che manifestare qualcosa farlo emergere portarlo fuori fare anche delle cose teatrali ha sempre una valenza positiva in quanto comunica agli altri fa percepire immediatamente appunto il servizio quello che si vuole fare noi abbiamo tutte le prediche dei predichi pedofili che parlano della famiglia che parlano dei bambini e poi migliaia di bambini sono vittime dei sacerdoti pedofili allora io penso che sia più importante che sia migliore che sia positivo fare del folklore fare del carnevale perché almeno le cose vengono manifestate vengono dette vengono dette e soprattutto vengono realizzate e nessuno obbliga gli altri a fare del folklore il folklore proprio dicevamo è saggezza popolare e di conseguenza con un po' di saggezza popolare si comprendono meglio le cose ma saggezza popolare significa che la saggezza appartiene non a un singolo ma appartiene alla comunità che manifesta questo folklore e perciò io spero che le manifestazioni di Roma e di Milano non siano sole ma il fatto che delle persone in maniera così autonoma si rendano conto che devono scendere in piazza significa anche che a livello politico non esiste nessuno che è capace di portare avanti di sostenere o di affermare in campo politico e in campo legislativo quello che le persone chiedono il problema il problema grosso Francesco è un altro abbiamo delle esigenze della società civile che sono spinte molto forti sono delle spinte veramente forti dall'altra parte abbiamo dei politici che da un lato non hanno capito niente di quello che sta avvenendo nella società civile quando mai avessero capito poi lo sappiamo e dall'altra parte sono talmente impegolati nei loro giochi elettorali nei loro conticini preelettorali che stanno tentando di fare commettere effettivamente delle atrocità e l'atrocità più grossa che stanno tentando di commettere è quella di impedire alle persone di manifestare quello che le persone hanno nell'animo perché fra poco ci sono le elezioni che veramente è una buffonata in mane nel senso che non è che ci schiacciano che eriamo con questo o quel partito abbiamo più simpatia per chi è più sensibile alle tematiche vicino alle nostre che non che non ha il partito in se stesso magari siamo simpatizziamo per quello per quella tematica e dopo lo abbandoniamo perché ne ha altre che ci fanno ci fanno mettere la pelle d'occa però il problema è questo cioè queste migliaia di centinaia di migliaia di persone perché sembra 150.000 a Napoli a Milano e non so quante a Roma che ce ne siano state hanno portato in piazza delle esigenze che sono non solo sentite dalla società civile ma sono delle esigenze costituzionalmente stabilite cioè io qui sotto mano ho una sentenza della Corte di Cassazione e vi ricordo le sentenze della Corte di Cassazione fanno testo e vanno anche a definire quello che è la società civile ebbene la Corte di Cassazione dice e l'articolo del 6 gennaio 2005 due persone che si amano convivono dividono beni e difficoltà della vita non sono sposati ma la loro è comunque una vera e propria famiglia si pronuncia così la Cassazione tendendo ancora una volta come ha fatto con varie sentenze negli ultimi anni una mano verso le coppie di fatto la loro vita dicono i supremi giudici va equiparata a quelle delle coppie istituzionalizzate di marito e moglie e farlo significa una significativa evoluzione sociale la Suprema Corte lo sostiene dopo che si sia trovata a decidere se un detenuto che in regime di semilibertà conviveva con una donna avesse o meno il diritto ad essere ammesso al gratuito patrocinio il rapporto di convivenza hanno chiarito gli ermellini ai fini del calcolo reddituale per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato non si interrompe con lo Stato detentivo e ha poi colto l'occasione per sottolineare la significativa evoluzione della nostra società nel considerare le coppie fuori dal matrimonio come una vera e propria famiglia in pratica questo detenuto non lo si ammette al patrocinio al patrocinio gratuito dello Stato perché convive con un'altra persona cioè è come se si dicessero quando c'è da pagare soldi la convivenza viene considerata come coppia di fatto quando invece c'è da riconoscere dei diritti minimali allora non è più convivenza come coppia di fatto cioè stiamo vivendo effettivamente una situazione sociale atroce per tutta una serie di persone che siano omosessuali che siano eterosessuali che siano quello che volete che stanno mettendo insieme la loro vita che stanno mettendo insieme i loro patrimoni e spesso non gli viene riconosciuta la partecipazione in questa loro attività cioè effettivamente una situazione atroce una situazione atroce torno a ripetere che mentre le Supreme Corte stanno tentando di mettere a posto e le esigenze della popolazione stanno manifestando politici di destra o di sinistra si trasbattano altamente e la situazione che stiamo vivendo in questo momento io ci ho passato tutta la mattinata da quando mi sono alzato da letto fino a un attimo prima di venire qua mi ha portato a fare un documento un documento che ho messo in internet stamattina e che dimostra come Franco in Spagna Hitler in Germania Mussolini in Italia sono stati voluti e portati al potere dal Vaticano con delle vere e proprie operazioni operazioni politiche ebbene stiamo vivendo più o meno la stessa situazione dove tutti i politici corrono al capezzale del Vaticano e sono pronti a mettersi sull'attente e a dire signor sì politici che dovrebbero essere come minimo anti come minimo laici come minimo insomma hanno espresso nel passato delle idealità ben diverse da quelle del Vaticano eppure stanno tutti correndo a leccare quella cacca da quel culetto e siamo veramente in una situazione atroce perché stiamo perdendo la democrazia quello che viene messo in discussione è il dettato costituzionale oh signori svegliatevi stanno fottendo la democrazia non so fate un po' voi effettivamente la coppia è gravissima e attenzione contro queste manifestazioni si sono pronunciati tutti la RAI intanto si è rifiutata di fare la diretta per pressioni dell'eleanza nazionale Prodi ha detto che si sente rattristato da questa manifestazione non vi dico cosa hanno detto gli altri perché se no andiamo un po' fuori di testa hanno partecipato tutta una serie di personaggi a titolo personale addirittura sembra che Palombarini abbia preso delle mazziolate da Rognoni perché come magistrato si presentavano in queste manifestazioni poi io con Palombarini ho anche un conto in sospeso oltretutto ma tra l'altro hanno aperto un po' di disciplinare anche nei suoi confronti prima della manifestazione di fatti Palombarini non ha potuto partecipare ad alcune trasmissioni perché è stato posto a un procedimento disciplinare ma tra l'altro non è che andasse lì come in tribunale andava come un cittadino che manifestava qualcosa siamo praticamente di fronte a una situazione che è effettivamente pesante effettivamente atroce e si lascia perdere questo tipo di parte il fatto che sto Ratzinger sta parlando senza contraddittorio cioè sta facendo incitamento all'odio civile cioè quando quando un Ratzinger viene a dire vediamo un attimino tanto dovrei trovare anche abbastanza presto la parte Ratzinger sta andando a ruota libera nel senso che le sue esterneazioni le sue uscite le sue parole hanno sempre incredibili sia dall'antico sia al moderno non serve e no ai Pax e no alla pillola abortiva quelli si chiamano incitamenti all'odio sociale quello è attività di eversione ed è di una gravità enorme ed è davvero di una gravità enorme perché ci si dimentica che questi personaggi sono quelli che il Vaticano nascose gli Ustascia Pavelic e i suoi ospitati nelle chiese Repubblica 18 gennaio 2005 un ex agente segreto USA accusa il futuro Papa Paolo VI aiutò i criminali di guerra croati negli anni del grande disordine seguito alla seconda guerra mondiale i più farmigerati criminali di guerra croati i cosiddetti Ustascia poterono sfuggire alla giustizia internazionale trovare il rifugio in America Latina e sfruttare l'immenso tesoro raccolto depredando le vittime dei loro regime sanguinario grazie alla protezione ricevuta in Vaticano dal loro vice segretario di Stato Giovan Battista Montini più tardi ha sceso al soglio di Pietro col nome di Paolo VI cioè praticamente questi qua altro che il priorato di Sio cos'è del codice da Vinci le sette segrete questi qua effettivamente stanno destabilizzando le strutture sociali ma in maniera veramente pesante non so fate un po' voi cosa volete che vi dica cioè è chiaro che noi parlando di stregoneria di paianesimo diciamo Fio questa è la società che abbiamo e in questa società cercheremo di vivere di fare le nostre cose però non è che ci piace molto la situazione che sta come si sta evolvendo non è che ci piacciono molto i politici che dovrebbero difendere i principi costituzionali mettersi sull'attenti davanti al Vaticano e distruggere il dettato costituzionale non ci piace moltissimo sì no c'è poi il fatto stesso che le manifestazioni di Brescia dico le manifestazioni appunto di Milano a Roma il Vaticano le ha definite provocazioni sì a proposito questo termine di provocazioni io ho sentito usare un'altra volta dei vescovi spagnoli contro Zappatero cioè Zappatero è stato minacciato dei vescovi spagnoli gli stessi che hanno organizzato Franco e la guerra civile dicendo che stava facendo delle provocazioni contro di loro siamo veramente fuori di testa cioè questo è effettivamente versione dell'ordine costituzione stanno minacciando folle sì ma il fatto vedi che si definisca che la manifestazione di un'opinione di un'idea di una tesi politica o di una richiesta sociale o di una richiesta normativa da parte di alcune persone venga reputata come provocazione siamo veramente sul fatto che ormai si cerca di mescolare il concetto di peccato e di opinione e di fatti appunto già noi avevamo detto in alcune trasmissioni che alcuni vescovi dicono che non si può distinguere tra il codice monale della chiesa e il codice penale il peccato dovrebbe diventare reato e il fatto che il Vaticano si prende la libertà e nessuno ricontesti questo il fatto che vada a dire che dei cittadini che non hanno provocato danni perché non mi risultano scontri con la polizia non mi risultano danni provocati alla città non mi risulta nessun problema di ordine pubblico che dei cittadini che vada a manifestare al di là delle posizioni politiche manifestano una loro scelta manifestano una loro idea manifestano poi tra l'altro non per un partito per un leader non manifestano per dire questo è più bravo più intelligente questo governo ha fatto o non l'ha fatto dicono noi come cittadini vogliamo governarci vogliamo scelgere e le leggi che devono essere realizzate in una società e in uno stato sono quelle per i cittadini e giustamente il Vaticano da buoni cristiani in reputano questa che è una provocazione proprio perché per loro non è pensabile non è immaginabile non è concepibile non è ipotizzabile che una persona sia libera di scegliere la propria esistenza che una comunità possa darsi un indirizzo in base all'eligenza della comunità e logicamente anche in questo caso i politici non hanno rivendicato il diritto di manifestare la loro opinione ma allora se questi politici dovessero sentire continuamente il Vaticano che parla di provocazione porteranno i carri armati nelle piazze per impedire che le persone vadano a manifestare non per avere il rinnovo giusto del contratto ma per i diritti che non è neanche un costo economico esatto quindi nessuno ha dato l'assalto alla zona rossa nessuno ha lanciato una Moltov non è stata riuscita nessuna auto non si chiedeva neanche l'aumento giusto però bisogna trovare qualcosa per criminalizzare esatto e la sostanza qual era questa richiesta? non si chiedeva di cambiare la finanziaria non si chiedeva di dirottare il denaro da una parte dall'altra si diceva noi come cittadini come individui come popolazione vorremmo delle leggi che fossero adatte alla nostra esistenza e che queste leggi vengono stabilite in base a quello che noi scegliamo non esiste un codice morale impositivo la comunità ha il diritto di scegliersi delle leggi noi lo facciamo in maniera democratica lo facciamo in maniera comunitaria noi non obbligheremo i cattolici a fare quello che facciamo noi noi li obblighiamo certo a fare copie di fatto i cattolici ad esempio obblighano le persone ad esempio al battesimo creano tutta una serie di agitazioni di preoccupazioni creano tutte quante le dicerie popolari cercano di imporsi nella società dove possono nella scuola con gli insegnanti di religione nelle comunità per il battesimo per altre cose ma chi difende ad esempio l'aborto difende altre cose non dirà mai a un cattolico se è obbligato a praticare l'aborto se è obbligato a fare questo e qui proprio rientriamo nel campo in cui effettivamente la religione è un qualcosa di pericoloso io parlo di religione nel senso della religione cristiana della religione monoteistica tenete presente che io non sono Francesco che lascia aperti i telefoni se mi sono dimenticati aperti non significa che comunque non rispondo non vi preoccupate va bene dopo che venne finito devo dire una cosetta a proposito e difatti il tema è appunto delle religioni che hanno bisogno parlo delle religioni monoteistiche per essere chiaro perché il paganesimo non ha certo bisogno di imporre nella società alla comunità qualcosa il monoteismo la religione ebraica musulmana cristiana è già momento di studio in alcuni ambiti culturali ed è uscita proprio una rivista che si è specializzata in studi dell'argomento e dice religioni forti e democrazie deboli e dice che l'unico momento di contenimento della violenza intrinseca delle religioni monoteistiche è il fatto che esista una società che sia laica che sia democratica e che sia lontana dai principi autoritari del monoteismo se questi principi saltano le religioni monoteistiche non hanno più nessun freno nell'agire nel loro massimo estremo dice chi recensisce questa rivista dice solo la debole democrazia consente alle autorità religiose di essere ancora legittimate testimoniali testimonia di democrazia verso l'esterno e campioni di autocrazia all'interno della propria comunità cioè nel senso che nel momento in cui questo argine dettato da regole politiche da legislazioni laiche o staccate dalla religione finisse a saltare sicuramente il potere autocratico l'autocrazia che all'interno della religione del dominio andrebbe a debordare andrebbe a dilagare andrebbe a cambiare completamente la società e allora l'importante è che noi ci comprendiamo come è necessario e fondamentale capire che il monoteismo è un qualcosa che nuoce completamente certo non lo possiamo debellare ancora del tutto non lo possiamo cancellare ma non lo possiamo cancellare certo con le leggi dobbiamo creare una cultura creare un qualcosa che ci permetta di comprendere che è pericolo perché a me fa sempre ridere e dimostra la sindrome di Stoccolma quando qualcuno dice e qua si parla di un omosessuale dice siamo cattolici e ci amiamo sia i Pax questo appunto dal punto di vista proprio di sostenere una tesi è veramente incredibile dice siamo cattolici ci amiamo e soprattutto abbiamo bisogno del cristianesimo cioè questo desiderio ad esempio delle donne di diventare sacerdote all'interno della chiesa cattolica ti fa sacerdare è incredibile perché non è concepibile in queste persone il crearsi una religione che sia diversa di essere facitori o creatori di sacro cioè nel senso che i cattolici nonoteisti hanno sempre un qualcosa di visione particolare dicono noi rappresentiamo il sacro e soltanto aderendo convertendosi a questo voi entrate a far parte della religione del sacro in realtà nel paganesimo è l'individuo la comunità che crea il sacro Francesco tu sai che spesso gli omosessuali dicono nella Bibbia non c'è nulla che vieta le relazioni omosessuali allora se c'è qualche omosessuale non so cattolico in ascolto sappia che le regole fondamentali della chiesa fra le altre cose dicono per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominose le loro donne cambiano le relazioni naturali con quelle contro natura e gli uomini pure abbandonati dalla relazione naturale con la donna si accesero di mutua concupiscenza commettendo turpitudini maschi con maschi ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento Romani 1 vabbè io ce l'ho dal 24 e 32 pertanto esiste una condanna di Paolo di Tarso per quanto riguarda l'omosessualità Paolo di Tarso era un impotente questo ormai è risaputo ve l'ho già detto ve lo dirò ancora però ricordatevi che la chiesa cattolica condanna assolutamente l'omosessualità che dopo di che la chiesa cattolica la utilizzi nei suoi seminari per avere l'esercito di preti e consentirla in certe direzioni fino adesso è avvenuto le cose sono scappate di mano non tanto per l'omosessualità ma sono scappate di mano per il tipo di educazione che è imposto sui ragazzi nei seminari per cui chi pagherà il prezzo saranno sempre gli omosessuali di tutto questo di tutta l'operazione cattolica pertanto sappiano gli omosessuali che la chiesa cattolica non può accettare l'omosessualità come normale come rappresentazione dell'individuo nella società perché questa è condannata del suo libro sacro che dopo se un giorno gli verrà utile lei troverà comunque una scappatoia non c'è problemi per questo tanto se li fanno se li disperano sono loro che inventano il limbo inventano il purgatorio si inventano il paradiso per cui non c'è grande problema sì poi vedete che la cosa sia grave lo capiscono anche persone che non sono pagane qualcuno ha assistito ad esempio a tutta la polemica fatta dal discorso del Papa ad esempio contro una medicina contro l'RU486 ok